rieccoci qui con il nostro podcast il podcast dei giornali della stampa di cesana io sono fabrizio frattini qui accanto a me c'è il nostro direttore lorenzo del bocca siamo qui per parlare del giornale che sarà in edicola domani venerdì 24 febbraio oppure per voi che magari ci ascoltate domani che già in edicola oggi allora direttore questa settimana è caratterizzata dal passaggio tra le grandi feste di carnevale che hanno caratterizzato un po tutta la nostra zona e l'arrivo della quaresima delle ceneri e infatti noi abbiamo dato conto dell'uno dell'altro gli ultimi spiccioli di carnevale con le ultime manciate di coriandoli hanno animato praticamente tutti i paesi che non ha fatto grandi manifestazioni ha fatto anche dei piccoli piccoli eventi negli oratori la bassa per esempio borgola vezzaro garbani e vespolate novaro legge gagliate hanno avuto delle delle sfilate di carri anche più significative più imponenti ci sono state manifestazioni significative a momo fontaneto a gozzano domodossola ha portato il carnevale in piazza all'insegna del giallo che è il colore giallo delle tuniche dei volontari che hanno lavorato per questa manifestazione del giallo della polenta ma ci sono state anche sfilate significative di mascherine grandi e piccole a intra a stresa a mergozzo e ha chiuso il carnevale anche varallo e borgosesia con un giorno di ritardo perché per una tradizione secolare il giorno il primo giorno delle ceneri è l'ultimo giorno di festa del carnevale che loro chiamano mercoschuroti il mercoledì oscuro ma è un giorno in cui il resto della diocesi e il resto della popolazione va in chiesa per prendere la cenere significativi gli 800 ragazzi che hanno affollato il luomo e che hanno preso le ceneri dal vescovo franco giulio brambilla questo periodo di quaresima è anche il periodo di maggiore attività per le associazioni che preparano il venerdì santo le due più significative sono quelle di romagnano sesia che ha 300 anni di storia e quarona un po più verso il monte rosa in balsesia che di storia ne ha 40 però tornano alla ribalta maggiore che recupera una tradizione che aveva abbandonato per tanti anni e cavaglio che invece vuole cominciare questa volta hanno lanciato un messaggio il parroco in modo tale da chiedere l'aiuto volontario di cittadini che possano proporsi come attori come costumisti come registi come come sarti per cucini vestiti in modo tale che la via crucis del venerdì santo possa essere significativa insieme a tutto questo abbiamo cercato di affrontare la questione legata al 110 per cento che ha creato dei problemi legati al fatto che con le nuove disposizioni del governo non è più possibile l'accessione del credito se non è possibile l'accessione del credito vuol dire che mancano i quattrini e manca la liquidità e questo mette in ginocchio molte aziende edili che non si trovano nelle condizioni di poter finanziare i lavori ma addirittura e addirittura di pagare gli operai le proteste sono state significative il governo ha lasciato intendere che può provvedere la questione aperta siamo soltanto al primo dei capitoli di questa vicenda noi abbiamo dato conto di questa di questo inizio di vicenda di questa cosa si parla sulle edizioni del sud ma edizione del sud si parla anche di altri argomenti direttore cosa abbiamo sul sud beh a novara c'è il gruppo di fratelli d'italia di del municipio che fa la minoranza della maggioranza c'era stata una visaglia che sembrava un fuoco di paglia la settimana scorsa quando la giunta dopo avere varato in unanimità il bilancio si era trovata con una serie di emendamenti proposti appunto da fratelli d'italia che avevano già approvato il bilancio sembrava che la cosa potesse rientrare facilmente invece adesso fratelli d'italia torna la carica con una serie di interrogazioni ed emozioni due in particolare una che riguarda la sicurezza e che quindi mette in discussione l'operato dell'assessore lanzo e l'altra che riguarda il decoro urbano la settimana scorsa è stata ricucito il malinteso e questa volta ci vedrà però c'è una notizia positiva novara perché il turismo torna a crescere nel 2022 sono stati 500 mila gli arrivi che nell'insieme rappresentano un milione 300 mila presenza vuol dire che ognuno più o meno si ferma due tre noti è un aumento significativo del 39 per cento rispetto all'anno prima ma questo dato vuol dire poco perché l'anno prima le città erano ferme per il lockdown è invece più significativo il fatto che c'è un 4 per cento in più rispetto all'anno ancora precedente che l'anno precovit e questo movimento turistico si trascina elementi positivi nelle zone che più turisticamente sono appetibili più appetibili per lo meno di una varia città orta per esempio col più 12 per cento rispetto al precovit o il cuso urbano ossola trascinato dalle località che stanno sul lago maggiore e dalle località montagne dell'ossola loro arrivano a più 16 per cento gli uni e gli altri rilevano che tornano gli stranieri cominciano a ritornare soprattutto gli americani che sono quelli che rispetto al turismo rappresentano anche la fetta più ricca nel centro borgo manero semplione e monterosa borgo manero si è presentato in piazza martiri con un flash mob degli studenti che chiedevano la pace che dicevano sì alla pace e non alla guerra riferimento all'ucraina evidente anche se il chiedere la pace è un problema come dire nazionale generale a romagnano sesia che è significativo che nella scuola i gli alunni di quinta elementare si sono trasformati in insegnanti e hanno insegnato ai più piccoli ai primini di prima elementare mentre a borgosese c'è sottile che è un saltatore in atto che salta per le olimpiadi abbiamo poi anche le nostre edizioni del nord che sono il popolo dell'ossola l'informatore del cusio e il verbano qui di che cosa parliamo direttore piedi mulera è rimasta senza medico tanti paesi e tante città si sono trovati in questa condizione di deficit sanitario però piedi mulera è un comune di montagna e i collegamenti sono complicati per cui ha dovuto pensarci il sindaco che ha aperto uno sportello per accogliere le esigenze dei cittadini e provvedere al loro bisogno mettendo a disposizione addirittura delle auto per accompagnarli nei paesi vicini e tante volte a distanza di qualche decina di chilometri per poter rimettere nelle condizioni di essere visitati di ritirare le ricette da portare in farmacia o comunque di avere l'impegnativa per andare a fare delle visite specialistiche a omegna è emersa una nuova candidatura sindaco ricordo che omegna si voterà in primavera caviglioli che è vicino al terzo polo cioè a calenda e renzi sia candidato e sembra che sia risolta la questione di cireggio a cireggio era stato immaginato un investimento di due milioni e mezzo che derivano dal pnrr per fare un asilo a cireggio però dopo che era stato tutto quanto approvato e il progetto dove entrare in una fase esecutiva sono emerse delle obiezioni e delle opposizioni praticamente unanimi cioè tutto il consiglio comunale d'accordo e tutta la cittadinanza di cireggio d'accordo del non volere all'asilo in quel punto lì sembra che sia stata trovata una soluzione di spostare l'asilo da un'altra parte in modo da poter continuare a usufruire dell'investimento di due milioni e mezzo bene questo era il podcast dei giornali della stampa di cesano novarese io sono fabrizio frattini con me c'era il nostro direttore lorenzo del bocca chiudiamo qui questa edizione una di sentirci alla prossima settimana grazie a tutti